Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRMH24. In primo piano la cronaca con gli sviluppi legati al tentato omicidio avvenuto a Monopoli due giorni fa. Infatti dopo essere stato fermato con l'accusa appunto di tentato omicidio, il 35enne di Monopoli che due giorni fa ha coltellato la sua ex compagna, ha confessato ai carabinieri dicendo di volersi ora togliere la vita. Stando a quello che è stato riportato subito dopo aver aggredito la donna, il 35enne avrebbe telefonato anche al suo datore di lavoro e gli avrebbe detto ho accoltellato la mia compagna, le ho dato tante coltellate che spero sia morta, io poi mi ammazzo. L'uomo avrebbe anche lasciato un messaggio alla sua ex suocera, un biglietto nel quale era scritto mi ha rovinato la vita. Stando infatti a quanto riportato dalle forze dell'ordine, il 35enne era convinto che la donna lo tradisse. In passato infatti era anche stato denunciato proprio dalla compagna per maltrattamenti e atti persecutori. Cambiamo ora argomento e ci spostiamo a Potenza. La prima funzione sacra dopo la riapertura segna il rinnovamento della Chiesa Santissima Trinità. Ci sono delle critiche dalla famiglia Claps. Sentiamo. Nella solenne atmosfera che avvolge la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, la Chiesa della Santissima Trinità ha ospitato la prima cerimonia eucaristica dopo il suo restauro, evento che non manca di riportare alla memoria il tragico ritrovamento di Elisa Claps. La messa è stata ufficiata dall'Arcivescovo di Potenza, Monsignor Salvatore Ligorio, segnando un momento di rinnovamento spirituale per la comunità locale. La diocesi informa che il rito diverrà un appuntamento quotidiano alle 7.30, inserendosi nella riorganizzazione pastorale delle parrocchie del centro storico. La famiglia Claps, tuttavia, attraverso le parole di Gildo, fratello della sfortunata Elisa, esprime una ferma critica alla curia potentina. Rileva un'assoluta mancanza di rispetto nella gestione della memoria della tragedia, percepita come un tentativo di rimozione dei dolorosi fatti accaduti. Crack delle ferrovie del sud-est. La Procura di Bari ha chiesto 13 condanne. Secondo l'accusa, l'ex amministratore unico della società Luigi Fiorillo, fra il 2011 e il 2015, in concorso con altri soggetti, avrebbe distratto fondi causando una bancarotta da 230 milioni di euro. La Procura di Bari ha chiesto 13 condanne tra i 3 e i 12 anni di reclusione per gli imputati coinvolti nell'indagine sul crack delle ferrovie del sud-est. Agli imputati sono contestati, a bario titolo, i reati di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale per dissipazione e distrazione di fondi. Secondo l'accusa, l'ex amministratore unico della società Luigi Fiorillo, in concorso con consulenti e funzionari della società, oltre che con imprenditori, avrebbe distratto fondi causando così il crack da 230 milioni di euro nel corso della gestione di FSE tra il 2011 e il 2015. Si tratta di uno dei più grandi casi, se non il più grande, di bancarotta fraudolenta del sud Italia, ancora più grave perché è fatta a danno di una società con capitale interamente pubblico, ha detto al termine di una lunghissima requisitoria il procuratore di Bari, Roberto Rossi, alternatosi per tutta la mattina e per parte del pomeriggio con l'APM Desiree di Geronimo. La condanna più alta a 12 anni è stata chiesta per Luigi Fiorillo, a cui sono contestati vari episodi di bancarotta, dissipazione e distrazione. La pena a 10 anni è stata chiesta invece per l'avvocato Angelo Schiano, considerato l'amministratore occulto di FSE, è il vero centro decisionale della società, come affermato sempre dai PM in aula. La discussione delle parti civili inizierà nell'udienza del 24 novembre. Siamo ora all'economia. Il segretario della CGL, Maurizio Landini, ha ribadito da Cerignola, dove era presente nelle scorse ore, l'opposizione alle riforme del governo. Si pensi ai lavoratori, ha dichiarato alla sanità ai giovani sfruttati, confermato lo sciopero. Sentiamo. No alle riforme che stravolgono la carta costituzionale. Si pensi ai lavoratori dimenticati e tartassati. Maurizio Landini ribadisce da Cerignola la sua posizione critica verso il governo. La Costituzione nostra va applicata, non va stravolta e cambiata. È già abbastanza diviso e separato, non abbiamo bisogno né di autonomia differenziata né di altre riforme. Se hanno in mente di mettere mano alla Costituzione, debbono sapere che la maggioranza di questo Paese non ha questo bisogno. La nostra Costituzione va applicata e noi questa battaglia la faremo fino in fondo. Landini è nella patria di Di Vittorio e prima sosta a D'Orta Nuova, lì dove lo stesso Di Vittorio ha iniziato a lavorare. Nessun passo indietro sul lavoro, sino alla mobilitazione confermata. Abbiamo bisogno di garantire il lavoro, di togliere la precarietà, abbiamo bisogno di aumentare i salari, abbiamo bisogno di garantire il diritto alla salute pubblica, abbiamo bisogno di garantire il diritto allo studio e abbiamo bisogno che combattano l'evasione fiscale, che vadano a prendere i soldi dove sono, per investirli, per chiarare lavoro. Noi non possiamo continuare ad essere un Paese che ha 120.000 giovani ogni anno che se ne vanno via dal nostro Paese per andare a lavorare all'estero, perché qui sono sfruttati e qui sei a un livello che la gente non arriva alla fine del mese. Quindi è di questo di cui abbiamo bisogno, non di altre cose ed è per queste ragioni che abbiamo deciso insieme alla UIL di proclamare uno siopero nazionale di otto ore e il mese di novembre sarà un mese di mobilitazione di lotta in tutto il Paese per cambiare queste politiche sbagliate. Ci spostiamo ora in Basilicata. Matera è polemica in aula tra il consigliere Morelli su un video pubblicato dal sindaco di Matera. La seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale. Venerdì pomeriggio a Matera si è tenuto il consiglio comunale nella sala Pasolini in via Sallustio. Tra i punti all'ordine del giorno la seduta si è aperta con l'accettazione delle dimissioni del consigliere Rocco Luigi Sassone. Al suo posto è subentrato Daniele Fragasso, primo dei non eletti nella lista legale elezioni del 2020. Per lui il voto favorevole dei 30 consiglieri presenti. Nel primo intervento Fragasso ha ringraziato l'ex candidato sindaco per il lavoro svolto e ha annunciato l'ingresso nel partito di Fratelli d'Italia. Nel mezzo non sono mancate le polemiche che hanno visto protagonista il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mario Morelli, il quale ha accusato il sindaco Domenico Bennardi di aver manipolato e stravolto le sue frasi pronunciate nella precedente seduta pubblicando un video sui social, secondo cui l'esponente Meloniano avrebbe contestato la scelta della maggioranza di destinare dei fondi per l'acquisto di giochi per i parchi. Non sono assolutamente contrario all'idea e sono senza parole per questo triste gesto del sindaco, ha detto Morelli. Il secondo punto ha visto tutti i consiglieri unire la propria voce agli appelli per il cessato il fuoco nella striscia di Gaza e per la pace tra Israele e Palestina. Presente anche il Comitato Materano per la Pace che attraverso una sua rappresentante ha letto un messaggio di sensibilizzazione e ricordato gli eventi cittadini in programma fino a domenica. La seduta è stata poi sciolta per mancanza del numero legale dopo una prima discussione sulla mozione a firma di diversi consiglieri relativa al piano di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile e per le trasmissioni radio-televisive che non ha portato all'approvazione. I lavori riprenderanno settimana prossima. Continuiamo con la politica e siamo ancora a Matera. Il direttivo di Forza Italia Giovani sarà guidato da Giuseppe Maria Casino. L'obiettivo è far nascere una realtà in ogni comune del Materano. Questi gli intenti. Sentiamo. Nuovo coordinamento provinciale di Matera per Forza Italia Giovani Basilicata. L'organigramma è stato presentato in una conferenza stampa nella città dei Sassi. Nel Materano i forzisti saranno guidati da Giuseppe Maria Casino. L'obiettivo prossimo, ha dichiarato il neocordinatore, è quello di far nascere nuovi coordinamenti in ogni comune del territorio materano. Siamo particolarmente felici di poter presentare alla città di Matera il nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani e lo facciamo in un contesto particolare, che è quello che vede Forza Italia presentare 12 coordinatori su 31 comuni presenti in Basilicata e quindi questo è per noi un grande punto di partenza. Siamo un partito che ha una tradizione liberale, europeista e garantista. Siamo fortemente ancorati ai valori che il nostro leader ci ha tramandato in tutti questi anni ed anche in vista dei prossimi impegni che ci attendono sul territorio siamo pronti a lavorare con umiltà in favore delle nostre comunità per far crescere sempre di più il partito e la bandiera di Forza Italia Giovani in ogni comune della nostra provincia. La composizione del nuovo direttivo vede la presenza di Michele Lisanti, Vito Gabriele Motta, Cosimo Stigliano, Giuseppe Gianni, Piero Stigliano, Lella Iacovino, Pasquale Di Cuia, Marco Candela, Simona Smaldone, Vincenzo Giammetta e Daniele Petrocelli. Nel corso dei lavori sono intervenuti tra gli altri il coordinatore regionale Nicola Padula e il coordinatore provinciale del Potentino Michele Nobile ed il responsabile regionale organizzazione Simone Pierro. Crediamo appunto che i giovani siano l'infa vitale di questa parte politica perché il futuro, come diceva spesso il Presidente Berlusconi, appartiene a noi e dobbiamo essere in grado non solo di interpretare il futuro ma di essere parte integrante del presente perché una Basilicata senza giovani è una Basilicata senza futuro. Quindi a lavoro da subito anche alla stesura del programma appunto per i giovani lucani insieme agli alliati del centrodestra, al Presidente Bardi e tutti quelli che faranno parte della campagna elettorale in Basilicata per appunto ribadire la nostra forza, le nostre idee e la nostra attenzione rivolta appunto a tanti giovani lucani che aspettano risposte e hanno bisogno della giusta attenzione per portare avanti il loro sogno che è quello di credere nella loro terra e di continuare a vivere i propri sogni nella nostra regione. Siamo ora allo sport. In vista della sfida di questo pomeriggio al San Nicola contro l'Ascoli, l'allenatore del Bari Pasquale Marino ha fatto il punto in casa bianco-rossa. Il tecnico siciliano ha sottolineato i miglioramenti effettuati dalla squadra reduce dalla vittoria in trasferta contro il Brescia. Ripartire dal secondo tempo disputato a Brescia per regalare ai tifosi del Bari la prima gioia stagionale al San Nicola e questa la rotta indicata da Pasquale Marino in vista della sfida sabato pomeriggio contro l'Ascoli. Intanto cercheremo di fare 90 minuti perché la settimana scorsa magari il primo tempo non siamo stati quelli del secondo tempo per cui da questo punto di vista dobbiamo crescere come atteggiamento fino dall'inizio e quindi ci aspettiamo sempre passi avanti. Torna a disposizione Mattia Maita ma senza capitano di Cesare squalificato e con un Vicari non al meglio in casa bianco-rossa è emergenza difesa. In conferenza stampa Marino ha sottolineato che il centrale ex SPAL convocato potrebbe giocare comunque dall'inizio. La duttilità degli uomini a disposizione in rosa potrebbe consentire al tecnico siciliano di riproporre il 4-4-2. Al di là dell'11 di partenza quello che Marino vuole vedere in campo è un approccio migliore alla partita e una maggiore intensità di gioco. Dobbiamo approcciarci bene alla partita sappiamo di avere davanti un avversario che giocano bene attaccano con tantissimi uomini per farci male e questo dobbiamo essere consapevoli però dobbiamo cercare di imporci dal punto di vista del gioco non possiamo sbagliare niente dal punto di vista mentale fisico, dal punto di vista tattico dobbiamo essere lucidi e soprattutto aggressivi. Ci fermiamo qui vi ringraziamo per l'attenzione a tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti